Ultimo video, diciamo, prima della pausa estiva, ultimo video di quelli dedicati all'attualità, quelli che escono ogni due venerdì, perché poi ci saranno un paio di video, ci saranno ancora un paio di puntate dei podcast, un paio di puntate di Cinemascope, forse una, e due video dedicati al passato. Però, per quanto riguarda l'attualità, questo è l'ultimo video prima della pausa di giugno-luglio e quindi vi voglio accompagnare con me in una specie di vacanza allo stesso tempo rilassata e inquieta, perché vi voglio parlare di un film che ha bisogno di essere scoperto, riscoperto, che ha bisogno che io vi ci accompagni. E questo film è Pazifiction di Albert Serra. Innanzitutto, benvenuti in questo mio nuovo video, benvenuti ai nuovi arrivati, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanella così tutti i nuovi video, tutte le notifiche vi arrivano tranquille. Se invece siete già miei iscritti, provate ad abbonarvi al canale. È un'opportunità, soprattutto da settembre in poi ci saranno delle novità, dei modi per interagire sempre di più, per partecipare alla creazione del canale, per partecipare anche voi proprio fisicamente in prima persona e non solo. Dicevamo, Pazifiction, magari è un film di cui non avete sentito parlare, ma siccome è un film che io trovo bellissimo e che ha tantissime cose da dire, mi è sembrato il caso di farne appunto una video recensione, chiamiamola così. Allora, il film è uscito da poco, nelle sale. Era stato a Cannes l'anno scorso, nel 2022, dove era stato accolto piuttosto bene, ma non aveva vinto niente a memoria. E racconta di un ambasciatore, un console, cioè una persona che vive e lavora e rappresenta lo Stato francese a Tahiti, insomma degli arcipeleghi polinesiani per intenderci. E in questo posto, che appunto sembra un enorme villaggio vacanze permanente, in cui lui rappresenta gli interessi dello Stato francese, ma al tempo stesso deve cercare di farli percepire, farli accettare dalla popolazione locale. Quindi è una figura di frontiera tra il potere bianco, il potere occidentale, il potere colonialista, perché di fatto è un film che racconta il neocolonialismo, è come la Francia, che è una delle poche potenze neocoloniali ancora rimaste, lo gestisce. E i locali, e quindi anche la capacità decisionale dei locali, la capacità culturale dei locali, come appunto la Francia, mi pulisco gli occhiali nel frattempo, come la Francia cerchi in qualche modo di, come la Francia cerchi di preservare quel potere, come lui, come figura di confine, invece cerchi di mediare tra le due cose, le due esigenze. Albert Serrat è un regista, questo è un film francese di produzione, ma lui è un regista catalano, se non sbaglio, faccio sempre un po' di confusione tra catalani e baschi, però dal cognome mi sembra catalano. Che è molto amato dai cinefili più radicali, perché fa un cinema piuttosto radicale, questo è uno dei suoi film più comunicativi, più fruibili, e non è un caso che forse è diventato un film, il suo film di maggior successo, non proprio la grossa, però di maggior richiamo. Forse è ancora più accessibile in un certo senso, ed è un film che si lega a questo, è un altro film francese della sua carriera, ed è, il titolo italiano dovrebbe essere La morte di Luigi XIV, se non sbaglio, con un grandioso, come si chiama, Jean-Pierre Léau, pensavo ad Antoine Duanel, con Jean-Pierre Léau che fa appunto re Luigi nel suo processo di decomposizione da vivo, cioè quel tipo, la malattia e le conseguenze che lo porteranno alla morte, quindi come quella malattia agisce sul corpo, ma come quel corpo fisico e anche corpo politico, quindi come quella malattia agisce sulle persone intorno a lui, sui suoi corpi, non elettorali, ma i corpi politici intorno a lui, la sua corte, i suoi detrattori, i suoi fanatici, e via dicendo. Perché dico che si lega? Il ruolo di protagonista è di un incredibile Benoit Magimel, che è un grande attore, e andatevi a vedere la sua filmografia, troverete tantissimi meravigliosi film, e quest'anno tra l'altro lui ha Cannes con altri tre film oltre a questo, perché è un attore straordinario, ed è un attore che ha fatto in modo, un po' come certi, mi viene in mente Marlon Brando o Gérard Depardieu, ma senza il narcisismo del degrado, ha fatto in modo che il suo corpo, che era da giovane un corpo molto, come dire, forte, atletico, affascinante, seducente, il suo corpo nel frattempo si è sfatto, potremmo dire così, cioè ha preso peso, si è imbolsito, eccetera, eccetera. Ora, anziché, come dire, lavorare di narcisismo come gli altri, ne ha fatto invece qualcosa che potesse aumentare l'espressività della sua recitazione, e lo ha fatto benissimo. In questo film lui interpreta questo ruolo, ed è un ruolo straordinario, perché il suo corpo, che non è al centro del discorso, ma lo è fisicamente, cioè lo è come immagine, questa sua grande stazza, che riempie lo spazio, in più, insieme al carisma del suo viso, della sua recitazione e del suo personaggio, sia personaggio scritto, sia personaggio come personaggio pubblico, ha un ruolo, ha un senso nel film, e il film racconta, in qualche modo, il disfacimento di questo personaggio, disfacimento, appunto, politico e, in qualche modo, potremmo pensare morale, azzardo, metafisico, e le persone, e la corte che gli sta intorno a lui. Ma se il re Luigi aveva una corte di un certo tipo, qui la corte è qualcosa che invece gli sfugge, non è una corte di persone che vogliono nutrirsi di lui, una corte di parassiti, al capezzale del re morente. Qui invece è una corte di topi, potremmo dire, che sfuggono, mentre il re morente, perché questo re morente? Perché lui si trova, a un certo punto, ed è lo snodo del film, di un film che non ha una narrazione lineare, cioè una narrazione che si staglia qua e là, nei dettagli, e che permea tra le pieghe dell'atmosfera. E poi, e ci arriviamo qui. Perché Fuggo da un altro punto? Perché lui si trova a dover indagare, in un certo senso, ed è qui che prende le pieghe quasi della spy story, su degli esperimenti nucleari che dovrebbero fare delle forze non francesi, cioè delle forze, c'è un generale portoghese, delle forze internazionali, diciamo, nelle acque, tra le acque internazionali e le acque proprie, cioè le acque locali, sono esperimenti nucleari che rimandano degli esperimenti che quella popolazione ha subito negli anni 70 e negli anni 90, ricorderete Mururoa. E se siete un po' grandi, se avete almeno 30 anni, ricorderete Mururoa. No, forse me ne servono 40 per ricordare Mururoa, però insomma, se siete più adulti dell'utente meglio di YouTube. E siccome quelle due esercitazioni vennero subite dalla popolazione, non vennero vissute in maniera attiva, perdonate, vennero subite dalla popolazione, allora in questo caso la popolazione che sente di avere un potere anche grazie al tipo di politica che Derollet, e questo è il nome, ha avuto nei confronti del pubblico locale, del popolo locale, chiedono fai qualcosa, intanto accertati che sia vera questa cosa, e poi fai qualcosa. Fai vedere che sei dalla nostra parte. E lui si trova in questo, tra l'incudine e il martello. Ora, come dicevo, l'atmosfera è centrale in questo film. Perché? Perché per tutto il tempo è un'atmosfera che vuole ricreare, soprattutto all'inizio, è un film che è molto lungo, ma questa sua lunghezza serve a far entrare lo spettatore in questa atmosfera e a fargli percepire i cambiamenti che questa atmosfera ha, e che sono cambiamenti legati al cambio di situazione e al mondo intorno al personaggio. È un'atmosfera molto indolente, molto pigra. È come appunto quella di un villaggio vacanze perenne senza l'animazione, dove tutti vivono secondo i tempi della natura, mettiamola così. Quindi sono tutti molto, appunto, pigri. È come se vivessero cullati costantemente dalle onde o da una maca. A questa atmosfera indolente che il film, sia nell'andamento del racconto, sia nel modo di far recitare le persone, gli attori, sia nel modo di descriverli, e anche ovviamente nella fotografia, nelle immagini, è ritratto benissimo e però a poco a poco entra quest'elemento che diventa sinistro. Non è semplicemente il pericolo che questo mondo possa crollare o che il potere di Derollé possa sfuggirgli di mano, che quindi questo suo ruolo di cesura, di cerniera tra due mondi possa venire meno. Ma proprio diventa quasi sinistro. Cioè, quindi, quel pericolo politico, e quindi quel mondo che rischia di crollare, assume dei contorni, dicevo prima, metafisici, ma forse un po' linciani, mi verrebbe da dire, e poi ci sono un paio di scene che riguardano proprio l'inch. E quindi c'è un'atmosfera sempre più sinistra dentro questo viaggio ipnotico, che ha a che fare con i luoghi, che ha a che fare con, di nuovo, l'uso delle immagini, che ha a che fare con gli spazi, e che quindi piano piano prende possesso, questi accenni di inquietudine prendono possesso del film, che non diventa mai un film inquietante. Quindi questi accenni non arrivano mai a esplodere, ma prendono piano piano possesso del film e di chi lo guarda, in un certo senso. E dicevo, la fotografia, che infatti è stata premiata col César, la fotografia di Alain Torte, se non ricordo male il nome, vado a controllarlo per non far figuracce, Arthur Torte, spero si pronunci così, è una fotografia straordinaria, intanto proprio per qualità delle immagini e per lavoro sui colori, ma per come è andato a reinterpretare i colori naturali di quei luoghi, e quindi delle isole della Polinesia e di quel tipo di ambientazione, di una fotografia che inizia di una nitidezza incredibile, tanto per grana delle immagini quanto per uso dei colori, e che a poco a poco si opacizza, va a coprire la purezza dell'immagine e diventa sempre più opaca, sempre più torbida in qualche modo, per arrivare poi a concentrarsi su quel buco nero linciano che è uno dei centri del film, dei centri anche del potere, che è una discoteca, un nightclub, gestito da Sergi Lopez, in un cameo, che è un attore anche lui spagnolo, che però ha lavorato tantissimo, lavora tuttora tantissimo in Francia, è quasi un attore francese ormai, potremmo dire, e logistice è quel luogo, è un luogo in cui la politica, il piacere, quindi la vacanza, e quindi anche però l'utilizzo del piacere a fini politici, viene sfruttato e appunto diventa un centro perché le trame spionistiche si sposano invece con il senso di fascinazione per l'altro, per il diverso, per la sessualità non conforme e anche poi, come dire, per le immagini non conformi lì diventa un buco nero e mettiamola così, come se fosse una loggia nera, tra virgolette, in cui non è che vengono ribaltate, no? le leggi, le regole della fisica, le leggi della logica, eccetera, però dove rispetto alla trasparenza del resto del luogo, lì si sente il pulsare di forze oscure, che sono forze politiche ma non solo, sono anche forze in qualche modo spirituali, che le immagini rendono, e c'è una lunghissima sequenza finale bellissima dentro questo nightclub dove si balla, dove i corpi si sfiorano, ma dove anche la politica si, come dire, si perde per dare il segno della vittoria del lato negativo della politica. Tutto questo viene portato allo spettatore attraverso le immagini, non attraverso il racconto o la dichiarazione o il dialogo. Sono elementi di riflessione che vengono portati allo spettatore e che lo spettatore non è che deve fare uno sforzo, però godendo e vivendo quel tipo di cullare che le immagini danno, che il ritmo dà, che i suoni danno, che le musiche danno, riesce a percepire. Quindi un altro modo straordinario che la regia e la fotografia hanno di dare l'evoluzione in senso sinistro, in senso inquietante di questa storia, è il modo in cui Derollé è ripreso. Questo suo corpo, questa sua figura, che è una figura estremamente carismatica, una figura che raccoglie su di sé il peso del mondo, ma che sembra saperlo gestire da salomone, in un certo senso, piano piano anche lei sfugge, anche lei diventa opaca. Questo corpo, questa figura intera, spessissimo ripreso da figure intera, sono rarissimi, adesso non li ho contati, ma sono rarissimi i primi piani, sono quasi tutte figure intere e campi lunghi, o il corpo nella sua interezza, o il corpo perso nell'ambiente, nello spazio, vengono inquadrate, sì, verso il finale, in inquadrature sempre più ravvicinate, ma spesso gli viene fatta ombra, viene coperto da un muro, da una struttura, dalle piante, il ruolo di Delolet diventa sempre più oscuro e noi lo vediamo sempre meno. Questo è un lavoro intellettuale che però comunica subito e immediatamente allo spettatore. Non è intellettuale nel senso deteriore, è intellettuale nel senso, secondo me, migliore del termine. È un film bellissimo, un film che chiede l'attenzione dello spettatore, la partecipazione intellettuale dello spettatore, ma allo stesso tempo permette ai sensi di quello spettatore di rilassarsi, di calmarsi, di godere. Appunto, l'ince ti mette costantemente in ansia, o perché non capisci, o perché cerchi di capire, o perché quello che vedi è perturbante. Qui invece, mentre i tuoi sensi sono, è richiesto ai tuoi sensi di galleggiare su questo mare, c'è una meravigliosa sequenza di mareggiata che comunica proprio questo, cioè attraverso la natura esprimere pensiero, esprimere cultura. C'è anche, a proposito di cultura, come dire, il senso forte del neocolonialismo francese, quando Derollet spiega ai locali cosa significa la danza locale che stanno ballando, che è un po' la presunzione paternalista dell'Occidente, ma anche come le popolazioni locali, la cultura locale sia stata uccisa, si sia persa a causa dell'influsso e dell'influenza neocolonialista. E dicevo, quindi, mentre i sensi devono calmarsi, devono cullarsi, devono lasciarsi andare a queste immagini apparentemente perfette, apparentemente totalizzanti, alla testa si chiede di pensare. E quindi l'indolenza dell'atmosfera, il corpo, e l'inquietudine, l'atmosfera sinistra, la mente, che agiscono uno contro l'altro. Ed è qui che nasce il clash, come dire, lo scontro bellissimo di questo film, che spero troviate ancora nelle sale. Non è uscito in moltissime sale, quindi nelle sale del capoluogo, nelle sale delle grandi città, spero lo troviate. Nelle altre, vedete se si trova sulle piattaforme, ancora no, però magari in DVD estero. Questo è molto probabile. Quindi spero di avervi convinto. Come sempre, vado a controllare se mi sono dimenticato qualcosa tra gli appunti. Mi sembra di no. Quindi, poi, ovviamente, se vi è piaciuto questo video, pollice, non questo pollice, con pollice monco ancora, ma questo pollice, un bel pollicino dritto. Continuate ad iscrivervi, abbonatevi al canale, oppure supportate il mio lavoro, buy me a coffee, per rendere il mio lavoro sostenibile, diciamo così. Noi ci vediamo, con i video di critica sull'attualità, sul presente, o di riflessione sul presente, ci vediamo ad agosto, probabilmente, o forse a settembre, vediamo. Ad agosto, di solito, qualche video lo pubblico. Durante l'estate il canale non si ferma, solo che pubblicherò delle cose che ho già fatto, cioè, i video che erano per abbonati verranno resi pubblici, uno a settimana, e pubblicherò in video il podcast Lui è peggio di me, che è andato online l'autunno scorso, se non ricordo male, solo, come dire, solo audio, e quindi lo metto anche video. È un podcast che ho curato con Andrea Cuglielmino per Radio da Sud, in cui ci confrontiamo parlando di cinema pop, di cultura pop, ma anche per smontare quel cinema e quella cultura. Ci vediamo, però, abbiamo ancora un paio di video della domenica che vi proporrò, ovvero Alien e Aliens, perché escono restaurati, e la monografia, chiede chi era, Yasujiro, Ozu. Vi aspettano poi anche i finali di stagione di un podcast di troppo e CinemaScope. Quindi, ai prossimi video, ai prossimi podcast, alle prossime live, viva il cinema sempre, e ciao a tutti.